La Sicilia è ancora sotto i mille nuovi casi, ma soprattutto risalta la differenza rispetto a sette giorni fa con un netto calo sia nel numero dei contagi che nel tasso di positività. Significa che l'andamento della pandemia fa ben sperare e che probabilmente la zona rossa ha portato dei risultati e ancora per qualche giorno li porterà. Fino alla settimana scorsa la Sicilia era la regione col più alto tasso di positività e il numero dei nuovi casi sfiorava 2.000 al giorno. Se nei prossimi giorni il trend verrà confermato, da domenica la regione allenterà le misure. Auspichiamo di uscire dalla zona rossa il 31 gennaio, ha detto l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza nella replica ai parlamentari a conclusione del dibattito a Lars sulla situazione pandemica nell'isola. Resta da considerare la valutazione che verrà fatta da Roma, ma tutto lascia supporre che l'isola possa tornare in zona arancione. Qualche ora ancora scopriremo se l'indice RT, come appare dalla riduzione dei contagi in Sicilia, ci permetterà di condividere col governo centrale il possibile declassamento del rischio della regione. La decisione di anticipare la zona rossa in Sicilia non è stata politica, dice l'assessore. Quando Musumeci ha chiesto di anticipare di una settimana la zona rossa lo ha fatto sulla base di una valutazione prognostica perché si poteva immaginare che l'indice RT avrebbe superato l'1,25 e questo avrebbe reso obbligatoria la zona rossa per tre settimane. Una valutazione azzeccata perché l'indice RT poi superò l'1,27. Nelle ultime settimane, ha ricordato Razza, l'incidenza per 10.000 abitanti ci trova al quinto posto, quella per deceduti sempre per 10.000 abitanti al dodicesimo posto e i tamponi molecolari realizzati sempre su 10.000 al settimo posto. La Sicilia è tra le regioni italiane che hanno il maggior rispetto dei parametri di ospedalizzazione che vedono una soglia del 30% per le terapie intensive e del 40% per la degenza ordinaria. L'isola in questo momento si trova al di sotto di entrambi i parametri, ha spiegato l'assessore. Su fronte scuole, in vista della riapertura delle superiori, la regione siciliana sta mettendo in campo un progetto. Stiamo verificando l'attuazione di un programma scuole sicure con il CTS e assessorato all'istruzione per la ripartenza. Ha concluso Razza.